Un posto a l sole anticipazioni, la trama del 13 marzo 2019. Mentre Maglio perde nuovamente le staffe con Adele, Salvatore si ingelosisce quando scopre che Mariella ha mandato una foto di Lorenzo a Guido. Nella puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 13 marzo 2019, il rifiuto di Adele di partire con Maglio per continuare un lavoro provoca drammatiche conseguenze. Nel frattempo Mariella condivide con Guido una foto di Lorenzo e questo ingelosisce tremendamente Salvatore. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'appuntamento di domani con la sua napoletana, come sempre su Rai 3 dalle 20,45. Come Giulia aveva previsto, la scelta di Adele di tornare a vivere con Maglio si rivelerà un errore madornale. Una scelta personale della Picardi, infatti, scatenerà conseguenze disastrose. Adele paga cara la sua scelta in questa puntata di Un posto al sole del 13 marzo 2019. Adele ha ceduto alle insistenze di Maglio e ha deciso di dare al marito una seconda chance tornando ad abitare con lui. La donna si è lasciata incantare dalle false promosse del marito e si è convinta che fosse veramente cambiato, ma quello che succede una volta tornata a casa le farà cambiare idea. Adele comunica infatti al marito di voler ultimare un lavoro per il quale si era già precedentemente impegnata anziché andare in vacanza con lui. A sentire le parole della moglie, Maglio va su tutte le furie e torna ad essere l'uomo violente di sempre. Stavolta, però, non sarà coinvolta solo Adele. Mariella manda a Guido una foto di Lorenzo. Mariella e Salvatore non sanno se rivelare a Guido che è il padre del piccolo Lorenzo. Il cerruti, per quanto gli riguarda, preferirebbe non dividere il figlio dell'altieri con nessuno. L'uomo è infatti molto felice di aver avuto questa opportunità di fare da padre al bambino e pensare di cedere questo privilegio a qualcun altro lo manda in crisi. Guido e Mariella sono però tornati ad essere una coppia e questo potrebbe portare l'altieri ad essere più propensa a rivelare al compagno la verità. Salvatore, inoltre, non la prende affatto bene quando scopre che Mariella ha mandato una foto di Lorenzo Aldeuro. .